110 controlli in provincia di Chieti con 12 verbali emessi e 6 denunce, 140 a Pescara con 7 verbali e 1 annotazione, 190 controlli nel Terramano con 5 denunce e 12 verbali di contestazione. I reati contestati vanno dagli scarichi abusivi, la captazione idrica, i tagli boschivi, l'utilizzazione agronomica. Sono questi i risultati dei controlli su 15 aste fluviali abruzzesi operati dai carabinieri forestali nell'ambito della campagna regionale Fiumi Puliti. Abbiamo pianificato, controllato le principali aste fluviali che ci sono qui in Abruzzo e quindi abbiamo fatto un po' un report della situazione che abbiamo trovato da cui poi poter andare a approfondire alcuni aspetti e diciamo che sono stati fatti in due anni più di 500 controlli con risultati positivi e sembra un miglioramento anche della qualità delle acque interne che ci sono qua in Abruzzo. Prevenire la parola d'ordine della convenzione stipulata nel 2020 tra Regione Abruzzo e Arma dei Carabinieri Forestali, un monitoraggio triennale del territorio per fornire dati alle istituzioni su cui incardinare le azioni programmatiche degli assessorati regionali, in particolare agricoltura e pesca di Emanuele Imprudente ed energie e rifiuti di Nicola Campitelli. Una convenzione che la Regione Abruzzo ha costruito a 360 gari con i carabinieri forestali che vede la presenza del settore dell'agricoltura, del settore dell'idrico, il settore e tutta poi la struttura del Dipartimento Territorio Ambiente con quella che è la parte rifiuti nell'ultima integrazione cave e poi la parte più storica che ho già avviato dal 2020 legata alle attività di verifica sui nostri fiumi. È un'operazione importante perché è un elemento di supporto strategico, tecnico per analizzare quella che è la qualità dei nostri fiumi. Noi nel nostro piano di tutela che dobbiamo aggiornare e che stiamo aggiornando abbiamo delle criticità e su alcuni punti specifici sono andati loro a fare delle verifiche importanti e strategiche. Aumentiamo soprattutto un'attività di controllo, quindi anche come deterrente, prevenzione attraverso 650 sopralluoghi che faremo nel prossimo in quest'anno proprio per le attività più sensibili, quindi tutta la filiera della gestione rifiuti, quindi la verifica, il controllo delle discariche autorizzate, il controllo poi di tutto l'aspetto ambientale e naturalistico della nostra regione e in più anche un'attività di vigilanza per prevenire l'abbandono di rifiuti lungo le nostre strade e lungo i nostri fiumi.